Tra le novità per la Nintendo 3DS troviamo questa nuova versione di Mario Kart, il cui titolo è ancora da definire. L'industria di questo gioco sono alcune nuove funzioni, come per esempio la possibilità di scegliere le gomme e il tipo di veicolo su cui far andare il proprio protagonista, oltre a una serie nuove funzioni come il deltaplano e le eliche, utili quando si vola oppure quando si è sott'acqua per continuare ad andare con il proprio veicolo. La nuova versione di Mario Kart per Nintendo 3DS dovrebbe uscire tra i 3 e i 6 mesi, ovviamente per Nintendo 3DS. Qui vediamo un attimino il nuovo gameplay, mentre lo schermo superiore è 3D, quindi tridimensionale autosteroscopico, quindi non necessita di occhialini per godere dell'effetto tridimensionale, mentre lo schermo inferiore è uno schermo touchscreen su cui possiamo vedere altre funzioni e altre viste del gioco. Il gioco ovviamente sfrutterà anche le caratteristiche online della Nintendo 3DS, quindi sarà possibile giocare in multiplayer sia online che con altre console collegate direttamente. e quindi Grazie a tutti.